Io credo che ci siano sicuramente alcuni nodi che oggi verranno sciolti. È chiaro che quando si affronta un percorso complesso come il cambiamento della Costituzione, che in questo Paese storicamente non è una cosa facile, cioè della riforma del Senato si parla almeno da 30 anni, finalmente siamo lì sul pezzo e stiamo cercando di portarla anche rapidamente a casa, è chiaro che verranno sciolte alcune ambiguità nel rapporto che in Senato intercorre tra il gruppo del Partito Democratico e il gruppo di Forza Italia, credo che questo incontro accelererà sicuramente la soluzione di alcune questioni che riguardano soprattutto la riforma del Senato. Detto questo credo che effettivamente la questione della velocità per Renzi in questo momento sia uno degli elementi più poderosi di cambiamento, perché la velocità chiude la Seconda Repubblica e apre proprio per le scelte istituzionali che noi stiamo facendo su Senato e anche su Titolo Quinto, che secondo me sarà la riforma veramente fondamentale anche per la macchina burocratica, apre la stagione della Terza Repubblica. Sono convinta anche che ci siano margini di lavoro e di miglioramento anche sull'Italicum. Mi auguro che oggi sia oggetto della conversazione tra Renzi e Berlusconi anche alla luce delle disponibilità date dal Movimento 5 Stelle su questo tema. Ma diciamo che non è proprio simmo, non è molto uguale. No, 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 io lo dico su un tema molto preciso. Lo dico su un tema molto preciso. Siccome dentro il Partito Democratico c'è questo dibattito, e so che c'è anche in Forza Italia, perché l'Italicum, che ha sicuramente bisogno di alcuni aggiustamenti, secondo me ha un... Bisogna arrivare al telemacum. Il telemacum sarà la legge che mette d'accordo tutti. Secondo me è una questione fondamentale che è quella della scelta dei parlamentari. È una cosa della quale abbiamo discusso a lui. Seguo anche l'ultima volta che ho avuto piacere di parlare col Presidente del Consiglio. Non dico preferenze, dico scelta dei parlamentari. Questa è la prima trasformazione. La scelta di chi? Del popolo? La scelta del popolo, perché qualcuno li sceglie. Beh, ovviamente intendevo quello. Penso che quello sia l'ultimo, o comunque un nodo più importante da sciogliere sull'Italicum, e mi auguro che Berlusconi, anche alla luce del dibattito che c'è all'interno di Forza Italia, insomma, affronti questo nodo, perché mi sembra che sia più un problema di Forza Italia quello di dare la possibilità agli italiani di scegliersi parlamentari. Il PD non ha problemi, perché già ha fatto le primarie, quindi il PD storicamente è disponibilissimo su questa cosa. Mi auguro che ci sia anche questa svolta nell'incontro di oggi tra Renzi e Berlusconi, e poi l'accelerazione sul Senato che è importante. Poi guardate, per quelli che saranno gli effetti concreti nella vita dei cittadini, io ho un'opinione che so essere condivisa soprattutto dagli amministratori locali, la riforma fondamentale sarà quella del titolo quinto. Quindi ci sarà realmente la sua divisione tra i poteri regionali e nazionali dell'unica Camera legislativa, che poi sarà appunto la Camera dei Deputati, quello di fatto cambierà anche l'effetto burocratico. Se noi mettiamo insieme il disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione e un nuovo modello di funzioni tra Regione e Stato centrale, noi avremo nell'arco di un paio d'anni una trasformazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Quindi per questo le ritengo due riforme straordinariamente epocali. Ma mia nipote che ha 16 mesi li vede queste cose, con che cosa vota? Avrà il Senato, non ce l'avrà perché... Io la cosa che direi a sua nipote è che sicuramente noi ce la stiamo mettendo tutta, ce la metteremo tutta perché possa vedere e beneficiare di queste riforme, perché è la qualità delle riforme che alle prossime generazioni... Si trasferirà all'estero sempre per queste... La qualità delle riforme per le prossime generazioni non è un dato sicurale. Che è quello le consiglio.